Ciao, bentornati, io sono il professor Raffaele Sozzi e questo è il mio canale Raffaele Sozzi, lingua e cultura italiana. E oggi voglio parlare di una festa molto importante, una festa che sia in Italia sia in Brasile è una festa molto importante, è il Carnevale. Il Carnevale è una festa cristiana, non sembra, però è una festa cristiana. Ha delle origini pagane, probabilmente, per quelli che hanno studiato e hanno già visto il video in cui io parlo un po' dei mesi dell'anno, febbraio come ultimo mese, eccetera, eccetera. Se non avete visto ancora questo video, guardatelo perché è veramente interessante, febbraio era il mese dedicato in antichità alla purificazione della terra e anche una purificazione anche spirituale, una purificazione della persona, perché segnalava la fine dell'anno solare. Poi il calendario è cambiato, febbraio è il secondo mese dell'anno, però in passato l'anno cominciava a marzo e quindi segnalava la fine, la fine anche dell'inverno, del tempo brutto. Quindi in realtà il Carnevale è un periodo, è il periodo che precede la quaresima, va bene? Quindi è un periodo. La data di questo periodo varia un po', però è un periodo. e noi celebriamo soprattutto gli ultimi giorni del Carnevale, però è un periodo di purificazione. Allora, qual è il significato vero della parola Carnevale? Il nome Carnevale deriva da un'espressione latina, carnem levare, cioè togliere la carne. Pensate che durante 40 giorni non si poteva mangiare carne, allo stesso tempo non si poteva conservare la carne. Pensa, conservare per 40 giorni e poi mangiare una carne solo dopo 40 giorni? Non esisteva il frigorifero. Era necessario in questo periodo del Carnevale mangiare quella carne, finire tutto diciamo tutto quello che si era, che si conservava a casa di carne, ok? Di grasso. Anche per questo motivo Martedì Grasso, che è terza fiera di Carnaval, in italiano diciamo Martedì Grasso, era l'ultimo giorno per finire tutto il cibo che non si poteva consumare durante durante la quaresima. Va bene? Bene, solo ricapitolando. Quindi è un periodo, non sono solo questi tre giorni che noi di solito festeggiamo e carnevale significa finire la carne, no? Togliere la carne, cioè non avere più carne a casa perché non si perda questa carne durante il periodo della quaresima in cui non si può mangiarla, va bene? E poi oggi ci sono tante cose belle durante il Carnevale, no? Per esempio ci sono i cibi di Carnevale. Il cibo più tipico è un dolce, no? Anche il Carnevale è associato anche a cibo dolce, no? Non solo cibo grasso, non solo cibo che contiene carne, ma anche dolci. Il dolce più tradizionale sono le chiacchiere, però questo dolce ha altri nomi a seconda della regione in Italia. Per esempio abbiamo Maraviglias, Cenci, Stracci, Crostoli, Fiocchetti, insomma tanti altri nomi lungo tutta la penisola. Come sapete il Carnevale si festeggia anche con le maschere, ci sono tante maschere di Carnevale Arlechino, Colombina, no? Sono anche personaggi del teatro, insomma le maschere fanno parte e il Carnevale di Venezia è il grandissimo rappresentante di questo Carnevale mascherato, elegante e bello. Però esiste anche in Italia il Carnevale con carri allegorici, per esempio a Viareggio, no? Un bellissimo Carnevale molto simile al Carnevale che esiste in Brasile a Rio, a San Paolo. Il Carnevale è un periodo anche di allegria, insomma fa freddo, è inverno, però possiamo mangiare i cibi, no? Finire lo stock, diciamo, di carne che abbiamo, di dolci e quindi si celebra anche la fine dell'anno vecchio e l'inizio di un nuovo anno, la primavera sta per arrivare, arriverà più o meno insieme alla Pasqua. Insomma è un periodo anche di divertimento, se vogliamo dire così, no? Tanto è vero che esiste anche un proverbio per il periodo del Carnevale. Noi diciamo a Carnevale ogni scherzo vale, cioè durante il Carnevale è possibile fare scherzi con gli amici o addirittura avere anche comportamenti diversi da quelli che abbiamo durante l'anno. Quindi durante il Carnevale, a Carnevale ogni scherzo vale, cioè possiamo scherzare, divertirci, ridere, mangiare e festeggiare, aspettando il momento della riflessione, del rinnovamento che è la Quaresima e la Pasqua. Va bene, è questo per oggi, se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, per favore scrivi anche il tuo commento e se tu vuoi studiare italiano con me, con interazione, con un corso specifico per i tuoi interessi scrivimi che io ti rispondo volentieri. Va bene, grazie e alla prossima!